Oggi imparerai 6 modi facili per far ridere le persone e far sì che amino passare del tempo con te. Il primo trucco consiste nel fare il finto tonto. Un modo per farlo è fraintendere intenzionalmente qualcosa di ovvio. L'idea è comportarti in modo così ignaro che sarebbe impossibile non capire che stai scherzando. Come hai appena visto, comportarsi così è un ottimo modo per ottenere una risata ogni volta che qualcuno ti chiede qualcosa che non è andato bene. Può aiutarti a trasformare una conversazione potenzialmente imbarazzante o negativa in una giocosa in cui sembri sicuro e divertente. Ovviamente, se ti limiti a fare il finto tonto in ogni conversazione, la cosa diventerà presto noiosa. Quindi è meglio mescolare questo tipo di umorismo con altri tipi di battute presenti in questo video. Per il prossimo semplice trucco, guarda questa clip di Dwayne Johnson che risponde alla domanda su quanto sia alto che a Vinart. Questo è un esempio di uno scherzo sincero. Crede alle aspettative fingendo di essere sul punto di dire qualcosa di sincero. Poi, cambi rotta per far ridere. Ora, non dovresti farlo tutto il tempo. È importante essere sinceri quando vuoi instaurare una connessione con qualcuno. Ma soprattutto, se la conversazione sta diventando un po' noiosa, uno scherzo sincero può essere un ottimo modo per far ridere le persone e creare un'atmosfera più divertente. Eccoti un altro esempio. Questa volta con Raya Reynolds che risponde a una domanda su come sia stato coinvolto in Aviation Gin. Come appena visto, un ottimo modo per predisporre una battuta in modo da far ridere le persone è usare la lista in tre punti. Prepara il terreno elencando due cose genuine e rendi ovvio che il terzo elemento che dirai sarà una battuta. Puoi usare questo tipo di scherzo in qualsiasi conversazione leggera, specialmente quando qualcuno ti chiede qualcosa come perché ti piace il tuo lavoro o cosa fai per divertirti. Nella prossima clip, Nikki utilizza questo tipo di battuta per descrivere da cosa è composta la sua bellezza interiore. Allora, questa battuta fa ridere perché gioca con le aspettative delle persone, le guidi deliberatamente in una direzione e poi le sorprendi con un inaspettato colpo di scena. Una volta che hai instaurato un clima giocoso come questo, c'è un altro modo semplice per far ridere le persone. Esagera così tanto che sarà impossibile prenderti sul serio. Ascolta Theo Von e Joe Rogan parlare del momento in cui Theo è rimasto quattro giorni senza cibo. Quasi ogni volta che vuoi ottenere una risata, puoi descrivere qualcosa usando esagerazioni estreme. Per un altro esempio, ascolta Tim Dillon parlare della controversia sull'ambiente di lavoro creato da Ellen. Questo è particolarmente efficace se stai esprimendo negatività. In generale, nessuno vuole ascoltare qualcuno lamentarsi, ma se usi esagerazioni estreme, puoi renderlo divertente per le persone intorno a te. Per esempio, ascolta Ryan Reynolds mentre parla della prima volta in cui ha lavorato con un attore bambino. Ora parliamo di la battuta più carismatica in assoluto che puoi fare, una battuta che leva l'altra persona. La maggior parte delle persone fa l'opposto, combina una battuta scherzosa con un tipo di scherzo che denigra l'altra persona. Scherzare in modo giocoso può assolutamente far ridere le persone, ma se hai il tuo unico tipo di umorismo, può far sì che l'altra persona si chieda se tu l'apprezzi davvero. D'altro canto, se tutto ciò che fai è raccontare battute che innalzano gli altri, rischi di sembrare un leccapiedi. È quando mescoli battute formate da complimenti con altri stili di umorismo che le persone apprezzano davvero stare in tua compagnia. Se non sei sicuro di come fare battute che innalzino gli altri, inizia con la tua affidabile nuova abitudine delle esagerazioni estreme. D'altra parte, quando fai battute su te stesso, un ottimo modo per far ridere le persone è l'umorismo autodeprecante. La maggior parte delle persone fa l'opposto, prendi in giro gli altri e cerca di apparire migliore. Questo può funzionare, ma rischi di ferire i sentimenti delle persone e sembri qualcuno che ci prova troppo. Ironicamente, quando ti prendi in giro, puoi apparire estremamente simpatico e sicuro di te. Eccoti un esempio di come farlo bene con Hugh Jackman che parla di suo padre. No matter anything I've ever done, acting wise, he says exactly the same thing. Hugh, wonderful work. Van Helsing, it's just really... Van Helsing ha ricevuto recensioni terribili e il fatto che lui sia disposto a scherzarci su fa ridere tutte le persone intorno a lui. Se temi che ciò ti faccia apparire sotto una luce negativa, inizia a scherzare su te stesso per cose di cui non sei realmente insicuro. In tal modo, se gli altri rilanciano sul tuo scherzo, non ti sentirai ferito. Detto ciò, questa è solo una linea guida e una volta a tuo agio con queste battute, puoi scherzare su qualsiasi cosa tu voglia. La maggior parte delle persone ha paura a fare battute del genere perché vuole sembrare perfetta e farsi amare da tutti. Ma la gente non ti giudica per le tue imperfezioni, ti giudica per come le affronti. Scherzandoci su, mostri che hai fiducia nell'essere visto come sei. Ora, un buon comportamento generale quando fai una battuta a tuo discapito è sorridere. Questo fa capire agli altri che è ok ridere. Ad esempio, guarda Bill Burr mentre racconta a Joe Rogan una storia in cui deve scusarsi con sua moglie per un acceso scoppio di ira. Alla fine, che tu stia scherzando su te stesso o su qualcun altro, tutto dipende dalla tua intenzione e da dove proviene. Se ti senti insicuro e ti prendi in giro perché sei in competizione per farlo prima degli altri, questo trasparirà. Se ti senti insicuro e prendi in giro gli altri per cercare di abbassarli, anche questo sarà evidente. Quando ti prendi in giro o prendi in giro qualcun altro esclusivamente per divertirti, senza cercare di giocare a uno strano gioco di gerarchia sociale, puoi passare naturalmente da una cosa all'altra e le persone riconosceranno la tua intenzione come quella di creare una conversazione divertente. Ora, ridere le persone è ovviamente solo una parte di una conversazione. Che tu stia cercando un nuovo mentore, più amici o più appuntamenti, c'è molto di più sul formare una connessione con qualcuno rispetto a quanto abbiamo detto fin qui. Devi essere in grado di avviare una conversazione con fiducia, catturare l'attenzione nei primi minuti in modo che vogliano sapere di più su di te e quindi costruire una connessione abbastanza solida da farli desiderare sinceramente di rivederti. Se vuoi un piano specifico di 30 giorni per essere in grado di fare tutto questo, potrebbe piacerti il nostro programma. La Carisma University È un programma guidato passo per passo di 30 giorni che ti mostrerà come avere una presenza magnetica quando entri in una stanza. Come entrare in ogni conversazione con sicurezza e come fare una fantastica impressione su chiunque incontri. Ci vogliono solo dai 20 ai 30 minuti al giorno e avrai anche a disposizione dell'action guide così saprai esattamente come passare dalla teoria alla pratica. Il programma è sequenziale, con ogni giorno che si collega a quello precedente. Se deciderai di entrare nella Carisma University, avrai anche una garanzia soddisfatto rimborsato di 15 giorni. Potrei andare avanti a parlarti all'infinito del programma e delle sue caratteristiche, ma invece voglio farti sentire l'esperienza di alcuni dei nostri studenti. La prima arriva da un ragazzo che dice che la Carisma University l'ha aiutato nella sua vita amorosa e dice Prima di tutto ho amato il tuo corso, ho imparato diverse cose. Ad esempio, la lezione sui filtri nel modulo delle conversazioni, quella lezione ha cambiato completamente la mia vita. Mi piaceva una ragazza da un anno ormai, ma non ci avevo dato peso perché temevo fosse troppo carina per me. Dopo le tue lezioni ci ho provato e ora usciamo insieme. La prossima arriva da un ragazzo che ha fatto dei colloqui per un nuovo lavoro e dice Ho fatto dozzine di colloqui in posti diversi per un lavoro dopo la scuola di medicina. Alla fine di uno di questi colloqui, il direttore mi ha preso da parte e mi ha detto che in assoluto aveva avuto il colloquio migliore di tutti i presenti e che sarebbero stati felici di avermi nel loro programma. Sono arrivato primo ed ora è il mio lavoro attuale. E quest'ultimo è un commento del corso da qualcuno che l'ha usato soprattutto per migliorare la sua vita amorosa e dice Mi ha cambiato la vita. In sei settimane sono passato dall'essere uno studente socialmente goffo con pochi amici ad essere il centro della vita di ogni evento a cui partecipo. In più sono passato dall'avere seri problemi con le ragazze all'uscire con la ragazza dei miei sogni. La Carisma University mi ha trasformato da un introverso solitario che sperava di connettersi meglio con le persone in un estroverso pieno di energia che fa amici ovunque vada. Se vuoi dare un'occhiata al corso non ti resta che cliccare sull'icona che compare ora sullo schermo oppure trovi il link in descrizione. Abbiamo avuto migliaia di studenti nel corso che hanno ottenuto molto e vorrei che anche per te fosse lo stesso. In ogni caso spero che questo video ti abbia aiutato e non vedo l'ora di vederti nel prossimo. Un abbraccio.